E adesso parliamo di istruzione. Torniamo a Monreale dove sabato scorso si è svolto il convegno dal titolo Studenti Siciliani in Trentino Alto Adige per lavorare e specializzarsi nel settore alberghiero. Il convegno è stato organizzato per presentare l'accordo che Feder Terziario ha firmato con il gruppo HGV Un'albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige. L'intesa prevede la realizzazione di tirocini che coinvolgeranno 80 studenti siciliani. Stiamo partendo con una grossa sperimentazione che avrà sicuramente un proseguo nel corso degli anni. Devo anche dire che questa è oggi una prima delle manifestazioni, la seconda l'avremo il 22 di aprile quando verranno praticamente tutti i dirigenti dell'associazione del Trentino che verranno a trovare direttamente i ragazzi. La speranza è quella di formarsi ma di tornare qua a far crescere la nostra Sicilia. Abbiamo sicuramente la stessa opinione, questa iniziativa nasce da questa voglia, dalla voglia di dire che i ragazzi intanto sperimentate, arricchite sicuramente strutture di livello perché le strutture del Trentino dove i ragazzi andranno sono strutture normalmente 4 o 5 stelle con una clientela delitti, con sicuramente professionisti delitti. Quindi il fatto che loro andranno a lavorare là sarà sicuramente un arricchimento non solo personale ma anche professionale. Quindi su questo ci giochiamo il futuro anche della Sicilia. La regione siciliana in questa legislatura ha investito tanto sul potenziamento dell'istruzione e formazione professionale in obbligo scolastico, i cosiddetti percorsi IFP, che sono stati accompagnati anche da un notevole incremento del numero dei contratti di apprendistato e quindi con una contrattualizzazione di giovani in aziende e in attività commerciali. Verificare che questa metodologia, che questo orientamento ha poi favorito da parte anche di singoli enti come in questo caso o da parte di associazioni di categoria l'estensione di questo processo con periodi di frequenza anche in altre regioni d'Italia dove potere ulteriormente apprendere io credo che configuri quasi la premessa di una specie di piccolo Erasmus della formazione professionale. Un'iniziativa importante che è l'assessorato alla famiglia e al lavoro unitamente all'assessorato all'istruzione e formazione hanno sposato completamente. Io credo che i ragazzi andranno a fare un'esperienza veramente importante in strutture di eccellenza. Chi saprà approfittare al meglio, e questo sta chiaramente nella coscienza dei ragazzi, sicuramente acquisirà una formazione per cui sarà valsa la pena di avere investito da parte della regione su di loro. La vera speranza è quella di tornare ad arricchire la nostra regione. Assolutamente sì, ma è quello che normalmente avviene. I siciliani bravi che vanno fuori, in generale si formano, si fanno le ossa, di solito tornano e io mi auguro che anche loro tornino e mettano a disposizione delle nostre strutture imprenditoriali il loro know-how, quello che hanno acquisito. È la prima forma di collocamento privato che nasce in Italia, non solo in Sicilia. Noi daremo la possibilità a tutti gli allievi e degli enti di formazione aderenti al cartello FEDER terziario OGL, daremo questa possibilità di esperienza lavorativa in una regione come il Trentino Alto Adice, che conta quasi 30 milioni l'anno di turisti tutti provenienti dall'estero, andare a acquisire delle competenze per poi trasferirle qua in Sicilia per poter dare ai turisti che verranno qua in Sicilia lo stesso servizio che riesce a offrire una regione come il Trentino Alto Adice. Stiamo lavorando anche sulle spa di quelle strutture alberghiere al fine di poter dare l'opportunità oltre ai nostri allievi dei corsi di ristorazione, anche agli allievi dei corsi benessere.